ciao a tutti questo è l'altro b la pillola dedicata al second stage la parola di oggi è freestyle una competizione tra due mc a colpi di rime rap la capacità di muovere la folla determina la vittoria e quindi declama il miglior poeta l'hip hop nasce nel 1973 e cuore di questo movimento sono le strade del bronx e il fenomeno dei block party feste di strada del bronx in cui i ragazzi afroamericani interagivano tra di loro cantando suonando e danzando a ritmo i quattro elementi principali della cultura hip hop sono l'emc il dj il writer e il bboy sul second stage salgono giulia galli in arte che arriva dall'umbria e giovanissima ci avvicina passione talento che nel 2013 le fanno conquistare lenti di spit la qualifica con come prima donna per le tecniche perfette ma con lo stile peso lo scarso che mi sfida esce l'esimo offeso e mastino che arriva da milano ed è classe 1978 lui nasce con lo spray in mano ma poi decide di bastire le rime e proprio mastino dopo anni di esperienza con associazioni e scuole decide di dar vita alla propria street arts academy una palestra per giovani che hanno e vogliono coltivare il proprio talento però fin da subito si vuole far capire che senza la fatica senza sacrificio non si arriva da nessuna parte un altro importante obiettivo è che grazie a questa scuola ci si può inserire all'interno delle numerose più questa era l'altro vi un caro saluto a tutti continuate a seguire lo scerro